video games party e game stop alla pelota edizione 2010 quest'anno abbiamo di nuovo chiamato i ragazzi every eye a darci una mano a livello di media partner se così si può dire ma la nostra amicizia è ormai lunga data lunga data come quella proprio del loro forum oggi festeggiano i dieci anni di presenza su internet che per noi informatici è un'eternità praticamente io parlo con simon che è il marketing manager di every eye.it un gran successo ma guarda da dieci anni ormai che siamo sulla crescita dell'onda siamo cresciuti tantissimo da sito amatoriale siamo diventati una realtà editoriale e una realtà ormai consolidata siamo contentissimi cambiamo sempre chiaramente il nostro forum cresce sempre di più ogni giorno quindi siamo veramente contenti di essere qua insieme a video games party anche quest'anno e noi siamo orgogliosi di avervi al nostro fianco e siamo orgogliosi di aver potuto ospitare oltre a tutti i tornei che ci avete sponsorizzato anche proprio il vostro il vostro torneo di fifa su piattaforma xbox a 360 abbiamo qua i vincitori vero allora partiamo dalla sì primo premio fct wax di allora cosa vince playstation 3 targata gran turismo un super premio direi è questa festa allora tu sei già un frequentatore del forum ebria sì sì siamo un clan anche che partecipiamo a diversi tornei sempre su formore via e anche in altri portali e ci stiamo togliendo grosse soddisfazioni molto bene così com'è giusto poi invece al secondo arrivato cosa diamo secondo arrivato abbiamo due giochi completi tu sei fct mark 2988 lo stesso clan tra l'altro come è stato questo torneo di fifa o bello bello la finale sono bellissime finale è stata bella come è finita abbiamo pareggiato 0 a 0 e poi abbiamo fatto una seconda partita abbiamo finito 20 che nazionali avete usato francia 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 contro francia va bene abbiamo anche un terzo classificato simon però è già andato vero va bene allora l'appuntamento è su su every eye.it e su every eye.tv per il video della presentazione e alla prossima con i prossimi tornei di every eye.it che dire di più grazie a simon videogames party il divertimento continua grazie a tutti